Poppa Pedretti da più di 70 anni realizza prodotti sicuri e funzionali e che durano nel tempo. 100% made in Italy. I nostri prodotti in legno pensano all'ambiente e al futuro. Infatti il legno è proveniente da foreste correttamente gestite e certificate FSC. Prodotti che durano nel tempo permettendo al bosco di generare nuovi alberi, verniciatura all'acqua e materiali atossici. Tutti i prodotti in legno sono fabbricati in Italia, garanzia di alta qualità. Snake appendi abiti pieghevoli con struttura in legno massiccio e barra porta abiti. Si possono appendere i capi appena stirati oppure le giacche e i cappotti degli ospiti. Grazie alle ruote antigraffio si sposta facilmente. Chiuso occupa pochissimo spazio, 14 cm e si ripone ovunque. Grazie a tutti.